Un funnel è uno strumento che è in grado di filtrare per noi il potenziale cliente dal resto del pubblico e porta il nostro prospect, man mano che percorre il nostro funnel, ad accrescere il suo grado di fiducia nei nostri confronti ed arrivare a scegliere di acquistare il nostro prodotto o servizio o a eseguire l'azione che noi vogliamo che compia in base all'obiettivo selezionato. Questo perché non è necessariamente vero che un funnel deve portare alla vendita. Come vedremo dopo, noi possiamo avere dei funnel di lead generation quindi dei funnel che ci permettano di acquisire dei contatti che poi noi possiamo utilizzare dopo, in seguito, con un altro funnel quindi per la vendita però noi stiamo separando le varie cose quindi l'obiettivo adesso è prendere il contatto creiamo un funnel che ci permetta di fare questo nel modo migliore possibile poi dopo creiamo un funnel per vendere un prodotto o servizio in base all'obiettivo e lo vedremo tra poco. Ogni funnel quindi ha un punto di ingresso e un punto d'uscita man mano che il nostro potenziale cliente percorre il funnel noi effettuiamo delle azioni che possono portare il nostro cliente dalla nostra parte quindi che fanno capire al potenziale cliente che siamo degni di fiducia ad esempio noi gli forniamo maggiori informazioni riguardo il nostro prodotto o servizio tramite una VSL quindi una video sales letter è praticamente un video di vendita consegniamo magari a casa una brochure informativa gli possiamo fare delle domande magari prima di partecipare a una call con un referente, con un commerciale ci sono vari tipi di funnel ovviamente alla fine del nostro funnel noi otteniamo sempre lo stesso risultato avere meno persone di quante ne sono entrate quindi quando noi facciamo parte di un funnel noi andiamo a proporre questo funnel a X persone noi dobbiamo avere Y persone che sono sempre meno di quante ne abbiamo prese se sono uguali in realtà non abbiamo scremato niente e o abbiamo sbagliato target abbiamo preso un target troppo piccolo solo di estremamente consapevoli solo di bla 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 però è stato inutile come operazione perché avevamo già quei contatti a questo punto quindi non si fa mai un funnel se non per andare a scremare le persone quindi a questo punto abbiamo un tasso di conversione l'obiettivo di ogni funnel infatti è selezionare dal nostro pubblico quindi dal nostro pool di persone le persone che sono più in target per la strategia che abbiamo intenzione di utilizzare ok? quindi facciamo un esempio noi abbiamo il nostro target che sono donne di dai 30 ai 50 anni ok? noi però vogliamo filtrare queste donne quindi tutta la totalità del target per quelle che vogliono fare la dieta non lo so la dieta della zucchina ok? che stiamo vendendo e quindi filtriamo facciamo capire che il nostro prodotto è unico facciamo capire che fa per loro gli diamo delle motivazioni gli ispiriamo fiducia compiono una conversione non tutte le donne dai 30 ai 50 anni compiranno la conversione solo quelle che si sono fidate abbastanza di noi che noi abbiamo convinto e hanno compiuto poi la scelta e hanno fatto una conversione ok? attenzione io ho detto strategia non obiettivo infatti diverse strategie possono permetterci di ottenere un risultato valido per il nostro obiettivo facciamo un esempio noi abbiamo l'obiettivo di vendere un prodotto possiamo utilizzare più strategie che quindi comprendono all'interno più funnel per ottenere lo stesso obiettivo ok? ma persone diverse rispondono a strategie diverse per il nostro obiettivo quindi infatti una fetta di target si muoverà verso di noi dopo aver visto una VSL altri no ok? quelli che non hanno compiuto azione però potrebbero comunque volerla fare potrebbero facciamo di nuovo l'esempio della dieta della zucchina che abbiamo fatto prima ovviamente sto scherzando è una cosa completamente a caso però noi vogliamo proporre questa dieta innovativa dove si mangiano solo zucchine a donne di 35 50 anni ecco che alcune di queste donne vogliono compiere la conversione vogliono comprare la nostra dieta una parte di queste donne che vogliono comprare la dieta quindi sono comunque un target che abbiamo già ristretto perché la totalità del target è donne dal 35 ai 50 anni ristringiamo su quelle che vogliono fare questa dieta e adesso di quelle che vogliono fare questa dieta abbiamo alcune che si muovono e che agiscono dopo aver visto una VSL altre che vogliono prima una guida PDF altre ancora vogliono ricevere un libro a casa eccetera eccetera ok quindi dobbiamo essere in grado di capire quale strumento utilizzare perché andare ad analizzare il risultato quindi andare ad analizzare poi i KPI che ne conseguono e solo a quel punto andare ad agire andando a magari ruotare il funnel in modo tale da andare a saturare il mercato e anche ruotare che 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 che